Dunque ufficiale, un nuovo innesto per l'Under 17 bianconera, è arrivato dall'Underlect Samuel Mbangula, giocatore esterno d'attacco molto dotato, nato nel 2004, già nazionale Under 16 belga, nonostante sia ancora tutti gli effetti un Under 16 giocherà comunque già subito con l'Under 17 di Mr. Bonatti. Il nome completo di questo ragazzo è Samuel Garmen Kindelumbangula Tsifunda, spero di averlo pronunciato bene, ed è un esterno d'attacco, insomma la Juve sta prendendo tanti esterni d'attacchi, probabilmente perché è quello dove ha bisogno più rinforzi le giovanili. Tra l'altro giocatore che ha già giocato comunque 5 anni nel Bruges, poi ha fatto un anno solo all'Underlect e poi ha deciso di trasferirsi alla Juve. Secondo me questo è un altro giocatore su cui bisognerà tenere d'occhio perché ha grande talento e ha anche e soprattutto esperienza internazionale. Questo non fa assolutamente mai male, insomma. Poi è belga, i belgi ultimamente stanno tirando fuori talenti veramente importanti, basta vedere la nazionale, che bella nazionale che hanno messo fuori. Quindi ragazzi, Samuel Mbangula è un nuovo giocatore della Juve Under 17, a me non resta salutarvi dall'appuntamento dei prossimi video.